Beh, sicuramente un motivo più importante è stato il mister, avevo voglia di tornare con lui per il fatto di quanto ero stato bene in passato, so come la pensa, so come lavora e quindi avevo voglia di tornare con lui. Come l'hai trovato? No, uguale, sempre lo stesso, sempre carico, sempre la stessa persona. Io spero di poter dare quello che mi contributo, la mia esperienza al servizio della squadra, che comunque ho visto già l'impronta del mister, si vede di come lavora il mister, però spero di poter dare quello che il mister cerca e mi impegnerò per farlo. Adesso torni quasi alla soglia dei 30 anni, un giocatore diverso in che senso? Mentale, quello sì. Prima andavo e correvo senza mai avere un'idea, spesso, invece adesso con il tempo acquisito quella mentalità giusta per affrontare qualsiasi partita, sì, quello sì. Sì, no, beh, sapevo, ecco, leggevo anche prima questa difficoltà che c'era nelle trasferte, non so se è un fatto mentale, non so se è un fatto caratteriale, non lo so, però di certo dobbiamo cominciare a fare risultato fuori, ci vuole, già da cominciando da sabato, ecco. Ma benvenuto ho sempre giocato, tranne una perché il mister non ha voluto, però del resto o giocavo o subentravo un partito in corsa, ho sempre giocato. Lì il discorso era un po' differente, il rapporto tra me e il mister che non era, ecco, abbastanza buono. Grazie.